Non solo ristoranti o fermate da autobus o lo smartphone d'ora in poi, trova anche lo psicologo più vicino. Succede a Napoli grazie ad un'applicazione ideata dall'ordine dei professionisti campani, un modo per avvicinare i cittadini alla psicologia, che come spiega il presidente Raffaele Felacco, è una materia in cui le urgenze non mancano. C'è una situazione di crisi non solo economica, ma soprattutto di umori, perché la crisi più grande rispetto all'ottimismo, che sembra la cosa scomparsa dal nostro paese, e quindi è molto importante che la persona, il cittadino, la persona che ha un momento di crisi, possa avere facilmente accesso a una disciplina scientifica come la psicologia, che in Italia non è del tutto affermata come negli altri paesi europei. L'applicazione si chiama TrovaPsicology ed è in primo luogo uno strumento pratico per trovare velocemente un professionista nelle vicinanze con la funzione intorno a me. Poi una volta che si clicca sullo studio ci dà le informazioni e da qui noi possiamo inviare una mail al professionista oppure chiamare direttamente. Una mappa online poi mostrerà il percorso per raggiungere lo studio. Ogni professionista compila una scheda in cui precisa anche quale orientamento segue nella sua disciplina, sistemico, comportamentale o altro, per dare al paziente tutte le informazioni in base a cui scegliere. Grazie a tutti.